Ciao a tutti! Dopo quattro mesi di vagabondaggio in giro per i box di tutta l'Italia che ci hanno ospitato per le nostre classi, finalmente siamo tornati a casa. Anzi, abbiamo trovato la nostra casa, perché da oggi tutte le nostre produzioni inizieranno e proseguiranno da questo box da Crossit Billizio, che è la casa di CXTV. Oggi è il 3 settembre, partiamo con una nuova programmazione invernale e partiamo come al solito con un warm up, dove abbiamo 5 minuti nei quali potremo stare sul rower, potremo stare su una south bike oppure, visto che il tempo è ancora buono, potremo uscire a correre. Subito dopo faremo la Edo squat routine, una routine molto utile per prepararle anche allo squat, che sarà poi l'esercizio che avremo più tardi, se non la conoscete seguite il link qua sotto e andate su YouTube dove trovate il video che vi spiega esattamente come eseguirla. Successivamente avremo un warm up specifico per lo squat che consisterà nel fare degli squat aumentando progressivamente il carico, fino ad arrivare all'esercizio vero e proprio dove avremo un 5-5-3-3-1-1-1 ripetizione di squat, ovviamente anche qua il carico andrà a salire fino a che le ultime saranno ovviamente delle ripetizioni molto pesanti. A seguire, velocemente il WOD è fatto da due run for time dove eseguirete 30 thrusters, 30 lunges, cioè gli affondi, le donne faranno 30 calorie sul rower mentre gli uomini ne faranno 21 e poi ci saranno 30 toast to bar, il tutto come abbiamo detto per due giri. I carichi per gli avanzati e gli intermedi 35 kg e 25 kg, per invece gli beginners 20 kg e 15 kg. Credo che per oggi sia tutto, ci rivediamo domani martedì 4 settembre sempre qua su C per TV, sempre da CrossFit Belizio.